canto 32esimo del paradiso di dante ecco questa vedete questa immagine che un po fa da sfondo a questa slide ecco questa immagine è di un illustratore amos mattini e noi useremo questa immagine proprio perché oggi parleremo della candida rosa essenzialmente parleremo quindi del trionfo dei beati con il trionfo di maria sopra questa candida rosa e che è stato rappresentato così da questo pittore ci potrebbero essere 10.000 rappresentazioni di quello che magari si trova anche nei giudizi universali quando c'è il giudizio universale in una chiesa compreso quello della cappella sistina di michelangelo c'è sempre una parte dedicata al trionfo dei beati quindi ai beati che circondano maria e cristo anche ebbene questo è un po quello che noi quello che dante fa in questo canto è esattamente questo l'affresco del paradiso nel senso proprio del trionfo dei beati che sono che sono intorno a dio ecco ecco questa cosa adesso come vedremo viene rappresentata è pensata da dante come una specie di rosa una candida rosa che ha al suo centro al suo cuore appunto dio quindi ricapitolando noi eravamo nell'ottavo cielo è il cielo dell'esame di dante e quindi abbiamo letto e parafrasato il ventiquattresimo cante canto di dante che era l'esame sulla fede poi ci sono stati esame sulla speranza con san giacomo l'esame sulla carità e poi c'è stato ad amo eccetera dopo di che si è passati al nono cielo si è passati dall'ottavo cielo vedete al nono cielo che cosiddetto primo mobile o cristallino dove si parla degli angeli insomma ecco ci sono le gerarchie angeliche infatti il cielo cristallino chiamato anche primo mobile è appunto il primo a muoversi riceve tale movimento da dio e lo trasmette poi ai cieli concentrici sottostanti quindi è il più rapido e veloce di tutti mentre il cielo della luna è più lento di tutti vi ricordate piccarda il cielo nono cielo primo mobile cristallino è il più veloce o rapido di tutti sopra primo mobile c'è solamente l'empireo nel primo mobile risiedono le gerarchie angeliche cioè gli angeli buoni quelli che non si sono ribellati a dio all'inizio dei tempi come hanno fatto invece lucifero e gli altri angeli ribelli che sono poi diventati diavoli e sono stati sono stati cacciati giù nell'inferno e infatti lucifero proprio stato scagliato al centro cuore della terra dove lì insomma si conclude anche il viaggio nell'inferno di dante gli altri angeli invece si trovano in questo nono cielo quindi il cielo degli angeli primo mobile ecco ovviamente quando pensiamo a primo mobile dobbiamo avere in mente anche la filosofia aristotelica nel senso che per aristotele c'era un'entità che lui chiamava così il motore immobile da cui si muoveva tutto quanto l'universo ebbene la stessa cosa più o meno interpretata in maniera cristiana poi da santo maso e da dante vuol dire che il dio fa muovere tutto quanto l'universo è l'ultimo cielo che è quello più vicino a dio insomma è quello più rapido di tutti che fa muovere tutto quanto il resto del mondo capite ricapitolando questo è tutto lo schema del paradiso ok lo vedete vedete i nove cieli a partire dal cielo della luna fino all'ultimo cielo cristallino primo mobile al di sopra al di là in un'altra dimensione possiamo dire rispetto a questi nove cieli c'è l'empireo quindi proprio la sede dove dio essenzialmente no queste in questo empirio dio al centro come ben vedete di una candida rosa dei beati ecco cerchiamo adesso di vedere più o meno lo schema sarebbe seguente abbiamo detto che le gerarchie angeliche o cori angelici sono descritti nel nono cielo quello che come dire che riguarda i canti che vanno dal ventottesimo al ventinovesimo del paradiso poi nel trentesimo si entra nell'empireo ecco l'empireo si presenta così come una candida rosa ecco vedete l'empireo viene descritto dal trentesimo trentaduesimo che è il nostro canto dove si è l'empireo proprio la candida rosa volevo dire viene proprio descritta con grande precisione proprio nel nostro canto essenzialmente si presenta come degli emicicli i petali chiamiamoli così sono dei petali ecco i petali più in alto sono rappresentati dai santi adulti i petali più in basso dai santi bambini quelli da una parte da un lato sono quelli dell'antico testamento quelli che credevano nel cristo che sarebbe arrivato ma che non era ancora arrivato e poi dall'altra parte invece ci sono i santi del nuovo testamento quelli che credono nel cristo che ormai è venuto maria e san giovanni battista infatti rappresentano proprio il momento della storia in cui sta terminando l'antico testamento e inizia il nuovo sono le due persone che sono partecipi dei due tempi partecipano sia all'antico testamento al vecchio testamento sia al nuovo nella loro vita dice anna maria chiavacci leonardi passa il confine tra l'uno e l'altro ecco perché qua ho aggiunto maria che poi quella che permetterà nel canto seguente cioè nel canto trentatresimo di far vedere dio a dante ecco questa è la candida rosa abbiamo detto come è stata descritta da questo illustratore amos mattini ecco il cristiano medievale dante quindi non si accontenta dello slancio spirituale indefinito verso l'assoluto egli ha bisogno invece di un ordine razionale preciso e quest'ordine razionale preciso è proprio quello descritto in questo canto e questo il canto in cui si spiega proprio in maniera dettagliata come è fatta questa rosa chi abita questa rosa questa candida rosa e allora a questo punto possiamo iniziare la nostra parafrasi a cosa fondamentale scusate che non abbiamo detto adesso la guida di dante san bernardo non è beatrice adesso beatrice ha preso il suo posto in questa candida rosa che possiamo immaginare con una sorta di grande anfiteatro no i cui spalti assomigliano ai petali appunto di una rosa enorme la rosa dei beati e quindi al posto di beatrice c'è una nuova guida in questo canto è san bernardo che spiega a dante appunto chi si trova in questa candida rosa quali sono i beati e secondo quale schema si trovano in questa candida rosa affetto al suo piacere quel contemplante libero ufficio di dottore assunse e cominciò queste parole sante c'è praticamente intento assorto affetto non viene dal latino tutto preso innamorato innamorato di quello che gli è stato chiesto di fare insomma di fare da guida come dire ci sto ci sto volentieri ben volentieri a farti da guida in quest'ultima parte del percorso tutto quanto preso nella contemplazione dell'oggetto del suo piacere quel contemplante per san bernardo era un mistico ecco san bernardo era un benedettino diciamo cistercense giusto c'è un santo monaco che però era anche molto influente nella sua epoca tra l'altro volle fu uno degli organizzatori e dei fautori principali della seconda crociata siamo nella prima metà del 1100 ma era anche un dicevamo un mistico e lo si ricorda infatti per le sue visioni di maria e quindi è la persona più adatta vedremo a interpellare maria a chiedere a maria di farsi da tramite per far vedere dio nell'ultimo canto del paradiso ma adesso intanto svolge bene la sua funzione di guida in questo canto e spiega è libero ufficio cioè un incarico ufficio cioè un incarico un lavoro un compito che mi è stato dato ma che che è stato dato quindi a santo ammaso ma che lui che lui svolge liberamente no di dottore assunse fa da professore da maestro espositore della composizione della rosa celeste e cominciò queste parole sante e comincia a parlare santo ammaso la piaga che maria richiuse e unse quella che tanto bella dai suoi piedi ecco lei che la perse e che la punse ecco praticamente nelle immagini della storia per i cristiani sono profondamente legate eva e maria e infatti con eva abbiamo il momento della come dire della prevaricazione cioè dell'offesa a dio e con maria il momento della redenzione con eva il peccato e con maria la salvezza diciamo però c'è dentro tutta quanta l'umanità in queste due donne no l'umanità è degna di accogliere dio sin dagli inizi della storia con diciamo con eva poi si aperta una ferita la piaga si aperta la piaga la ferita del peccato originale dio è perduto ma poi viene riguadagnato in un ciclo tutto umano dove dicevamo le donne svolgono un ruolo fondamentale queste due donne appunto dicevamo maria ed eva quella che siede tanto bella ai piedi di maria quella che tanto bella dai suoi piedi ecco lei che l'ha perso la puse cioè proprio eva che ha aperto e punto quindi in asprito la piaga cioè la ferita del peccato originale fatta nel genere umano quindi proprio lei come abbiamo visto nel ventiseisimo canto del paradiso in realtà non abbiamo visto noi l'abbiamo visto un altro anno leggendo il ventiseisimo è comunque questi due grandi peccatori sono comunque i due grandi uomini uomo la donna che dio ha pensato ha creato dall'eternità e quindi sono importantissimi nel suo progetto ebbene dicevamo proprio lei e ai piedi di maria si trova proprio eva ecco lei che ha che insomma con il peccato originale ha aperto quella ferita quella piaga nell'ordine che fanno i terzi sedi siede rachel terzi sedi vuol dire quindi provate a immaginare dicevamo gli spalti no di un anfiteatro di uno stadio no quindi sopra maria poi nel secondo settore mettiamo eva e poi terzo settore abbiamo rachele di sotto da costei c'è rachele che è sotto sotto maria abbiamo quindi rachele che è la seconda moglie di giacobbe rachele simbolo della vita contemplativa con beatrice insieme con beatrice così come tu stesso puoi vedere si trova lì beatrice quindi che ha preso abbiamo detto il suo posto nella nella candida rosa sarra e rebecca judith e colei che fu bisava al cantor che perdoglia del fallo disse miserere mei poi sotto si trovano ancora sarah sarah e la moglie di abramo da qui discesero i credenti in cristo venturo cioè gli ebrei poi c'è rebecca rebecca è la moglie di isacco figlio di abramo poi c'è giudith quindi giuditta giuditta e ruth ruth e fu bisavola di david insomma una specie di bisnonna non so adesso più o meno comunque bisavola bisava di david quello che cantò il miserere mei per la doglia quindi per il rimorso del peccato di adulterio infatti davide si uni insieme con bezzabea abbi pietà di me sì sì esatto è la stessa miserere mei è latino vuol dire abbi pietà di me praticamente fra i salmi che ci sono nell'antico testamento c'è una preghiera che davide fa chiedendo pietà del suo peccato perché si era innamorato di una donna era già sposato si era innamorato di un'altra donna bezzabea aveva ucciso il suo marito il marito di lei e quindi aveva commesso un grave peccato poi però aveva per dolore il dolore di questo peccato aveva chiesto pietà a dio miserere mei puoi tu veder così di soglia in soglia giù di gradar com'io che ha proprio nome vo per la rosa giù di foglia in foglia a questo punto dal settimo gradino in giù come dal primo a sesto puoi vedere puoi continuare a vedere scusate volevo dire tutti quelli che si trovano sotto disposti in gradini via via più bassi l'una sotto l'altra sono le donne dell'antico testamento così come io vado indicandole con il loro nome insomma Sara è nel quarto gradino Rebecca nel quinto Giuditta nel sesto Ruth nel settimo questo vorrebbe dire giù di foglia in foglia come abbiamo detto ho spiegato questi sparti sono come dei petali di una rosa quindi ha già spiegato insomma chi c'è sotto Maria come dire sono tutte le donne dell'antico testamento sono le madri secondo la carne infatti nell'antico testamento c'era un popolo nato per via di sangue in quel caso dio aveva stabilito un patto un'alleanza con un popolo e con tutta quanta la sua discendenza ecco perché è importante dicevamo la discendenza degli ebrei e dal settimo grado in giù dal settimo gradino fino al settimo gradino siamo arrivati giusto ti ricordi che abbiamo detto che Ruth è nel settimo gradino e dal settimo grado in giù siccome infino adesso succedono ebrei e così andando ancora in giù continuano ad esserci altre donne ebrei altre madri del vecchio testamento dirimendo del fior tutte le chiome cioè separando verticalmente tutti i petali della rosa cioè tutti gli ordini dei seggi perché secondo lo sguardo che fe la fede in cristo queste sono il muro a che si partono le sacre scalee queste donne ebrei con la loro linea verticale sono come il muro la parete divisoria secondo cui a che sono divisi a metà i giri della rosa si partono le sacre scalee insomma secondo le sacre scalee secondo che la loro fede in cristo guardò cioè secondo che la loro fede fu rivolta in cristo venturo o in cristo venuto diciamo che i beati sono divisi a metà da una parte vediamo appunto in questo caso quelli che credono nel cristo venturo cioè i beati le beate le donne e le madri ebree dell'antico testamento dall'altra parte quelli del nuovo testamento quando vedremo le anime del nuovo testamento vedremo che saranno uomini così tutto si completa e si incrocia perfettamente nel senso che parlando dell'antico testamento sottolineiamo il fatto che è stata una generazione di stirpe in stirpe di da madre in figlio diciamo così mentre parlando del nuovo testamento è una generazione spirituale per cui i grandi santi del nuovo testamento che vedremo saranno santi fondatori ad esempio di ordini della chiesa da questa parte onde il fiore è maturo di tutte le sue foglie sono assisi quei che credettero in cristo venturo da questa parte è la parte appunto della dell'antico testamento da questa parte del muro insomma dove la rosa celeste il fiore è matura in tutte le sue foglie cioè i seggi sono già tutti quanti occupati dobbiamo immaginare una specie di anfiteatro di stadio di spalto di spalto insomma in cui una curva curva sud e curva nord diciamo così curva sud è già tutta piena ci sono già tutti i tifosi di una squadra e sono quelli dell'antico testamento mentre l'altra curva è piena per metà cioè non è tutta quanta piena è occupata volevo dire per metà ed è quella di dei beati del nuovo testamento c'è ancora qualche spazio non ce ne sono tanti però quindi bisogna darsi da fare molto perché per essere santi altrimenti non si riesce più a trovare spazio perché sono limitati i posti sono posti limitati scusate questa banalizzazione però è per dire se vogliamo che quando lui ci parla comunque del paradiso non vuole accessibile a tutti è una cosa proprio concreta ecco la fede cattolica si caratterizza proprio per questo è una fede concreta in un paradiso concreto concretamente delineato descritto non è qualcosa di semplicemente intimistico o spirituale dall'altra parte l'altra parte qual è quella del nuovo testamento ovviamente onde sono intercisi divoti i semicircoli si stanno quei che a cristo venuto e belli visi capite cioè evidentemente dall'altra parte cioè dove sono interrotti intercisi da voti voti i vuoti cioè dove ci sono dei spazi dei seggi degli scranni liberi insomma i semicirchi dei beati stanno coloro che volsero gli sguardi volsero gli visi a cristo venuto a cristo che ormai era giunto era venuto si era incarnato e come quinci glorioso scanno della donna del cielo e gli altri scanni di sotto lui cotanta cerna fanno così di contra quel del gran giovanni che sempre santo il diserto il martiro sofferse e poi l'inferno da due anni abbiamo detto che in cima agli scranni delle delle donne e degli uomini anche dell'antico testamento ci sta chi si trova chi chi è che si trova in alto abbiamo detto che si trova maria mentre invece al di sopra degli scanni dei posti insomma degli scranni sarebbero le sedie chiamiamoli così del nuovo testamento si trova san giovanni battista infatti dice e come da questa parte cioè dalla parte che è di fronte a san bernardo a dante la parte in cui si trova maria il glorioso scanno di maria la donna del cielo e la domina del cielo la signora del cielo quindi evidentemente maria e gli altri scanni scranni seggi delle donne ebree fanno sotto lo scanno di lei di sotto lui una divisione cerna tanto importante cotanta fra i credenti in cristo venuto e credenti in cristo venturo così dalla parte diametralmente opposta di contra lo scanno quella di san giovanni battista il gran giovanni grande infatti è chiamato san giovanni battista nell'undicesimo libro del del vangelo di di matteo infatti gesù è chiamato il più grande fra i nati di donna e quindi evidentemente questo gran lo si può riferire anche a san giovanni battista santo fin dal seno della madre gran giovanni che sempre santo vuol dire già quando fu concepito san giovanni battista era già santo fin quando era nell'utero della madre sua sopportò il deserto e il martirio sofferse sopportò il deserto il deserto e il martirio da parte di erote nel senso che lui si era era andato nel deserto a vivere di di vermi e di locuste e poi era stato martirizzato cioè ucciso imprigionato da erode e infine decapitato per volere di salome e poi l'inferno da due anni dal momento che giovanni battista morì circa due anni prima di cristo solamente per due anni stette nel limbo ecco dove c'erano tutti i santi della del vecchio dell'antico testamento e poi furono tirati fuori non so questa è una cosa che di cui si parla ad esempio nel quarto libro scusate nel quarto canto dell'inferno furono tirati fuori da cristo nel momento in cui lui morì e risuscitò ecco quindi perché era lì da due anni solamente san giovanni battista quando poi fu tirato su e portato in paradiso insieme con tutti gli altri patriarchi e profeti dell'antico testamento ecco l'altro grande tramite abbiamo visto maria come tramite fra l'antico il nuovo testamento legame fra l'antico il nuovo testamento e adesso giovanni si capisce da questi versi ha vissuto fino in fondo ancora nell'antico testamento ed è morto ancora dicevamo fra insomma i santi profeti dell'antico testamento l'ultimo profeta dell'antico testamento poi due anni dopo è salito anche lui al cielo del paradiso è sotto lui così come sotto maria vi ricordate abbiamo visto le madri ebrei le donne ebrei dell'antico testamento sotto lui così cerner sortiro noi insomma sotto di lui possiamo vedere cerner sortiro francesco benedetto e augustino e altri fin qua giù di giro in giro quindi possiamo vedere questi grandi fondatori insomma di grandi ordini religiosi e altri santi qua giù di giro in giro fino al giallo della rosa insomma di gradino in gradino altri santi che come abbiamo visto abbiamo detto sono i santi fondatori di svariati ordini insomma questi sono padri secondo lo spirito quelle erano madri secondo la carne e quindi gli ebrei è la loro discendenza carnale da madre in figlio che era eletta questi invece sono santi secondo lo spirito nel senso che sono diventati padri di tanti loro seguaci padri spirituali però ecco or mira l'alto provveder divino ora considera mira la profondità della provvidenza divina che l'uno e l'altro aspetto della fede ugualmente impierà questo giardino dal momento che l'uno e l'altro modo di guardare Dio di guardare Cristo sia il modo di guardare Cristo attendendolo come erano gli ebrei che aspettavano il Messia sia quest'altro modo di vedere Cristo che ormai è venuto e quindi credergli e seguirlo bene entrambi questi modi riempiranno ugualmente allo stesso modo in ugual misura le due parti della candida rosa cioè di questo giardino e sappi che dal grado in giù che fiede a mezzo il tratto di due discrezioni per nullo proprio merito si siede ma per l'altrui con certe condizioni ecco attenzione fino adesso praticamente ognuno occupa i suoi posti nella candida rosa anche per merito suo insomma per esempio pensate a questi santi abbiamo detto fondatori di grandi ordini religiosi sappi però che a cominciare dal gradino che taglia fiede ferisce a metà le due divisioni le discrezioni dei beati venendo in giù si trovano delle anime che non sono state salvate per merito proprio ma per merito altrui sotto certe condizioni che tutti questi sono spiriti asciolti prima che avessero vere elezioni dal momento che queste anime sono degli spiriti appunto sciolti dai vincoli corporei del corpo cioè praticamente morti asciolti prima ancora che avessero la facoltà di scelta razionale vere elezioni prima ancora che potessero scegliere che potessero capire comprendere e quindi fare le loro scelte tra il male e il bene prima che potessero esercitare il libero arbitrio sono insomma le anime di coloro che morirono ancora bambini ottenendo il paradiso non per merito proprio ma per la fede dei loro genitori ad esempio se i bambini sono stati battezzati è per la fede dei genitori che sono stati salvati perché loro di per sé non potevano scegliere di essere battezzati oppure no scegliere il mare o scegliere il bene quindi è chiaro che nella concezione della salvezza per i cristiani certamente c'entra il merito quindi c'entra la scelta il libero arbitrio di ciascuno ma in certi casi c'entra comunque anche la grazia come nei casi di questi bambini ben te ne puoi accorgere per gli volti e anche per le voci puerili se tu li guardi bene e se li ascolti beh insomma se tu li guardi bene questi capirai subito che sono dei bambini sia per i loro volti sono volti da bambino sia per le loro voci che sono voci puerili appunto da bambini quindi avrai capito sicuramente sono quelli che stanno sotto lo abbiamo detto sotto un certo gradino e così San Bernardo affronta questo argomento cioè l'argomento dell'innocenza di questi bambini che va premiata questo per esempio è invece un'illustrazione di Gustave Doré delle nuove gerarchie angeliche ma torniamo adesso a questa questione a questo dubbio insomma che può sorgere riguardo alla questione dei bambini or dubbi tu e dubitando sili ora tu hai dei dubbi eh lo vedo lo capisco e dubitando sili cioè taci stai zitto sili infatti deriva da siles latino seconda persona singolare del verbo silio che vuol dire tacere stare zitto tacere ma io ti scioglierò il forte legame in che ti stringono i pensieri sottili ma io adesso San Bernardo scioglierò il difficile nodo il legame è chiaro che si tratta di una metafora per indicare il nodo mentale insomma cioè il dubbio ecco scioglierò questo dubbio nel quale ti tengono a vinti ti stringono i tuoi sottili ragionamenti i tuoi pensieri sottili e talvolta anche un po' fuorvianti dentro all'ampiezza di questo reame casual punto non può ti aver sito se non come tristizia o sete o fame per tutto questo ampio regno e regno insomma dell'oltretomba non si può trovare non può non può ti aver sito neppure un punto nemmeno un punto nemmeno un pezzettino un punto di questo regno oltramondano che sia dovuto al caso casual deve essere tutto rigorosamente razionale ragionevole ordinato non casuale come non vi hanno luogo il dolore o la sete o la fame se non come tristizia o sete o fa che per eterna legge stabilito quantunque vedi sì che giustamente ci si risponde dall'anello al dito dal momento che tutto quello che vedi quantunque vedi è disposto e prestabilito da una legge divina per eterna legge in modo che vi è perfetta rispondenza tra il merito e la grazia come tra l'anello e il dito allora esattamente come tra l'anello e il dito ci deve essere corrispondenza allora io mi comporto in un certo modo sulla terra quindi faccio del bene o faccio del male ovviamente in base a quello che ho fatto sulla terra vengo punito oppure vengo premiato appunto in paradiso è anche in maniera molto graduale molto precisa questo tipo di beatitudine in base a quello che ho fatto di bene come l'ho fatto come non l'ho fatto ma scusate tutto quello che abbiamo visto ad esempio nel paradiso a partire dall'inizio dell'anno e adesso come mai quindi ci sono questi bambini dal momento che loro abbiamo detto che non hanno avuto meriti non hanno scelto tutto fino adesso è stato commisurato al merito di una persona sulla terra in vita e però questa festinata gente a vera vita non è sine causa intra sé qui o qui più e meno eccellente perciò deve essere scusate per Dante tutto ha una spiegazione tutto ha un significato non c'è niente che è casuale non c'è niente che non ha senso tutto ha senso nel universo di Dante dice infatti perciò le anime di questi bambini morti precocemente la festinata gente c'è gente venuta in fretta festinata anche questa è una specie di latinismo alla vera vita del paradiso bene questi non sono senza una causa necessaria sine causa attenzione è una formula scolastica cioè una formula della filosofia di San Tommaso cioè non sono qui senza motivo non sono qui senza ragione in diversi gradi di beatitudine insomma non sono senza una causa più o meno in alto eccellente più o meno eccellente le une rispetto alle altre intra sé nei gradini della rosa qui nei gradini della rosa ognuno deve starci per un motivo ben preciso eh lo regge per cui questo regno pausa in tanto amore in tanto diletto che nulla volontà è di più causa le menti tutte nel suo lieto aspetto creando a suo piacer di grazia dota diversamente e qui basti l'effetto ecco qui adesso praticamente spiega ebbene il motivo c'è può bastare questo motivo il motivo della grazia cioè è una scelta di Dio questa volta lo regge ovviamente il re è Dio attenzione vedremo anche la prossima volta dal momento che oggi non facciamo il tempo a spiegarlo tutto questo trentaduesimo vedremo che questo paradiso questa candida rosa viene rappresentata come una Roma celeste il re il re sarebbe appunto Dio per cui questo regno questo regno celeste pausa riposa trova quindi acquiete trova il suo senso trova il suo ordine mantiene insomma la sua disposizione in sì grande amore e in sì grande beatitudine che nessuna volontà ardisce e ausa anche questo è latinismo ausa est diciamo chiedere di più nessuno quindi chiede di più di quello che Dio gli concede creando tutte le anime creando tutte le menti col suo sguardo che infonde beatitudine nel suo lieto aspetto rimirando lietamente le anime nell'atto della sua creazione e su questo punto basti l'effetto cioè deve basta sapere che Dio opera così ogni ragione noi per esempio uomini non riusciremo assolutamente a capire il motivo per cui uno ha ricevuto questa grazia e l'altro no insomma è ribadito per l'ultima volta il tema dell'imperscrutabilità della predestinazione divina già Dante ha toccato questo tema nel poema qui viene ribadito il fatto che comunque noi come uomini abbiamo un certo limite e non riusciamo a capire fino in fondo l'amore infinito di Dio se questi bambini sono stati salvati per grazia è perché Dio ha voluto loro bene questo deve bastare e ciò espresso è chiaro vi si nota nella scrittura santa in quei gemelli che nella madre ebbero l'ira con mota e questo lo si può vedere questa verità c'è la diversità della grazia divina la puoi vedere benissimo nelle sacre scritture dove si accenna ai due gemelli chi sono i due gemelli? sono Esau e Giacobbe ecco loro contrastarono fra di loro ebbero l'ira con mota si arrabbiarono fin nell'utero della madre si dice infatti nella Bibbia insomma nell'Antico Testamento che Giacobbe ed Esau lottassero già nel grembo della madre è vero comunque che i bambini intendo dire vuol dire gli embrioni già nel grembo della madre come dire scalciano un po' e se sono due scalciano fra di loro come dire quindi che sono erano già quando erano ancora nel grembo della madre erano già in contrasto l'uno fra di loro sforzandosi di venire alla luce l'uno prima dell'altro dovete sapere infatti che per gli ebrei se c'erano due gemelli ovviamente il primo che nasceva era primo genito e l'altro era secondo genito quindi il primo aveva diritto a tutta quanta l'eredità e secondo doveva adeguarsi ora effettivamente nasce per primo Esau quindi lui è la prima genitura però c'è il contrasto fra Giacobbe e Esau che poi sfocia alla fine nel famoso gesto di Giacobbe che offre al fratello un piatto di lenticchie dice vuoi questo piatto di lenticchie il fratello era affamato gli piacevano tantissimo queste lenticchie dice se la vuoi però mi devi dare la tua primogenitura Esau goloso ci sta e quindi perde la sua primogenitura e Giacobbe diventa lui l'eletto l'ho scelto ecco come a dire quindi che comunque certe volte già nel grembo della madre c'è un destino segnato ecco quindi il motivo per cui si sta parlando adesso dei bambini che hanno questa grazia sono predestinati così come c'era questa predestinazione fra Giacobbe e Esau che lottassero fra di loro e che poi alla fine comunque Giacobbe voleva la primogenitura quindi diceva tutta l'eredità e tutto sì l'eredità e anche l'onore diciamo sì sì certo è perché lui è un patriarca Abramo Isacco Giacobbe non era una questione non era roba di verga di cui parleremo invece martedì prossimo nella lezione della letteratura latina era virtuoso questo perché avere la primogenitura voleva dire avere una responsabilità la responsabilità del popolo che si tramandava da Abramo a Isacco appunto a Giacobbe invece che a Esau è Giacobbe e poi ti avrà il figlio Israele e quindi sarà il capo del popolo capite non è una questione meramente economica non siamo nell'ottocento nel verismo la roba il denaro di Zola l'avete letto il denaro di Zola siamo in una prospettiva completamente diversa ok quindi anzi è da premiare Giacobbe perché ha avuto questa ha accettato questa responsabilità ha voluto questa responsabilità però secondo il color di capelli dico tal grazia all'altissimo lume degnamente conviene che in cappelli e perciò però secondo il color dei capelli è necessario e fatale conviene che il lume divino l'altissimo lume si faccia aureola sin cappelli cioè si faccia corona di grazia di tale grazia divina appunto di cotal grazia opportunamente degnamente secondo il colore dei capelli che è rappresentativo del grado diverso della grazia come nel caso di Esau e di Giacobbe nei quali la diversità della grazia apparve indicata dal diverso colore dei capelli che erano rossi in Esau e neri in Giacobbe ritornando a Verga rosso malpero era cattivo perché aveva i capelli rossi giusto? e quindi Esau era cattivo era Giacobbe quello predestinato perché aveva i capelli neri mentre Esau ce li aveva rossi questa è la spiegazione poiché i bambini insomma non hanno meriti propri è giusto che la loro beatitudine sia proporzionata al grado diverso della grazia ricevuta da Dio la grazia la puoi vedere nel colore dei capelli se hai capelli rossi vuol dire che non hai la grazia di Dio se hai capelli neri ovviamente stiamo parlando di un poeta cristiano medievale del 1300 c'era questa idea però era un segno evidente di una bontà di una predestinazione divina quella di avere i capelli neri i capelli biondi c'è? anzitutto parlando di ebrei e antico testamento magari non ce n'erano proprio coi capelli biondi va bene ci fermiamo qua allora ragazzi 72 altri video didattici su a tuttascuola.it